Sostenibilità ambientale e attenzione alle fasce più deboli della popolazione sono i temi prioritari insieme al lavoro e sanità nei programmi elettorali delle liste progressisti con Legnini, Sinistra, Abruzzo e più Abruzzo, solidale, liberale, popolare e sostenibile con Legnini. Presentate oggi a Pescara la presenza del candidato presidente della regione Abruzzo Giovanni Legnini soddisfatto per la qualità dei candidati delle otto liste che sostengono la sua candidatura mentre il centrodestra è ancora alle prese con i problemi legati alla lista dell'Udc. Otto liste sono in campo, moltissimi giovani, moltissime donne, moltissimo rinnovamento nelle liste. Nel campo del centrodestra, direi della destra, erano partiti con sei, una lista è stata esclusa e poi il giorno della presentazione, quella clamorosa rottura che ha visto il candidato presidente, il senatore Marsilio, dichiarare che non vuole essere alleato con una lista che invece è alleata e coalizzata, il che costituisce un paradosso perché i cittadini abruzzesi che voteranno l'Udc, la nuova dc come si chiama la lista, voteranno anche per Marsilio che li disconosce, una situazione paradossale che avrebbero il dovere di chiarire di fronte ai cittadini abruzzesi. Da quel lato una coalizione divisa, litigiosa, da questo lato una coalizione coesa, plurale, rinnovata.